Ok ragazzi, benvenuti nel primo Oran Dev, quindi Oran Dev che sarebbe Dev Diari di Europa Universale della Paradox in generale Oggi parleremo appunto di Khmer, del Dev Diari scorso, della prima settimana che mi sono perso perché ero in vacanza Martedì scorso, non questo E sabato invece riprenderemo con Dev Diari, parleremo appunto di Malacca, Borneo, Aceh, forse prenderemo Vietnam Poi quando ci sarà il vuoto parleremo forse di Crusader King Town Ma vediamo, gestiremo le cose molto bene Oggi parleremo di Khmer e parleremo di Imperator Rom In cui c'è l'uscita del nuovo DLC Che grazie a Jumper, ringraziamo Jumper che ci ha fatto questo lavoro E iniziamo ragazzi, iniziamo a cazzo duro senza futuro Mamma mia che emozione Comunque Vale, prima che inizi ho fatto la carnificina su Valerant Sì ti ho sentito Nati prima urlare mentre facevo la storia? E sei sentito anche nella storia Con 10 mila euro ti compri una macchina? No, io mi compro il motorino, mi è giusto cazzo Ci campo, compro tutte le attrezzature, divento famoso Allora, ora guardano Che devi dire, sono due Lo so Jumper, tranquillo ragazzi, tranquilli Khmer OP Ah ah ah, Andy, non è così Alzo le mani Ora vi... ne parliamo, ne parliamo Parliamo appunto di Khmer Io vi faccio vedere quello che sta scritto ragazzi Ovviamente lo faccio vedere anche a voi E ringraziamo il signor Jumper per il lavoro che ha fatto Khmer, la nazione inizia con un nuovo disastro Simile a quello del Machia Pait Come se... se ricordate ragazzi, il disastro di Machia Pait era meno 5 stabilità E meno 50 prestigio Alzo le mani se sto sbagliando Jumper Oggi parleremo invece del... di Khmer Che il disastro è meno grave In questo caso a inizio game perdi 2 stabilità Meno 25 prestigio come state leggendo E avrai più 25% all power cost E un pugno nelle palle Un pugno nelle palle comunque Come Machia Pait, questo disastro per completarlo dovrai finire delle missioni Ok, quindi avremo delle missioni proprio a tema In questo caso come Machia Pait per risolvere il disastro Non funziona come ordine teotonico Ragazzi, alzo le mani È diverso risolvere cose Perché ordine teotonico per bloccare Danzig Devi raggiungere un obiettivo E non esplode la guerra civile tra Danzig e l'altro Machia Pait era meno 5 e meno prestigio Ah, più 50 power cost Ok, pensavo sempre 25 invece Allora, l'albero missioni del Khmer A differenza di quello di altre nazioni È focussato nel debbare la propria nazione E convertire le province e riprendere i vecchi territori dell'impero Ok, quindi significa che Khmer, come Machia Pait Era un vecchio impero Che è nella fase decadenza Quindi praticamente vedremo Due imperi, ex imperi In quella zona che adesso sono nerfate Per quanto riguarda il multiplayer di Europa Universale su 4 Quindi parliamo di tornei Sono nazioni nerfate Quindi nei tornei saranno pick difficili Se ci saranno Perché nella stagione 3 Non so se ci metteremo questi pick Alziamo le mani ragazzi Perché è una cosa da molto da valutare E secondo me non potremo Perché ha troppi malus il player A differenza, comunque continuiamo anche Invece single player Comunque sarà divertente giocare Sia Machia Pait che Khmer Sarà molto divertente risolvere questi problemi Chissà come sarà in single player Proverò, li proverò in live Può essere ragazzi Vedremo Tutto può essere A differenza di Machia Pait Khmer non avrà pretendenti o altri ribelli in più Aggiunti al disastro Quindi effettivamente Khmer è un po' più giocabile A differenza di Machia Pait Che Machia Pait ha avuto proprio il crollo Perché nel 1450 Come disse il nostro caro Jumper Machia Pait sparisce del tutto Dal gioco praticamente Nella realtà Non esisteva più Machia Pait Allora Ci sono missioni integranti Intigranti Scusatemi E leggemo le mie varie missioni Allora Completando la missione Restore Angor Conquista su Ayutthaya Quindi ci saranno anche conquiste Per quanto riguarda su Ayutthaya Che sarebbe Restore Angor Sì Praticamente è molto carina questa cosa E a Fires of Fate Unità religiosa Quindi dovrai Risolvere il problema religioso Non so come funzionare precisamente Leggeremo dopo di là Rebuild the Toons Debare Praticamente queste sono le missioni appunto Di debbare E risolvere Fare delle missioni Che porteranno spero vantaggi utili Tra cui anche c'è Subject Ayutthaya Come vediamo dalle missioni Avrai accesso a Kmer Resurgence Che sarà completato E fa finire il disastro Vabbè Ovviamente ci sono le missioni appunto Per risolvere il disastro Di Kmer Come quello di Machia Pait Ancora non ci sa Non si sanno i requisiti Di questa missione Ah ok Quindi ancora non si sa Non si sa i requisiti Per farli A posto Missioni intriganti Qua Andiamo a vedere La missione Second Second Golden Age Ti dà un modificatore Che dà Meno 25% All power costa E meno 30% 33% Future conversion Per i prossimi 20 anni Non male come cosa 20 anni Comunque ti può dare del bonus Questo ragazzi Non converrebbe Secondo Ma dov'è questa missione a spesso Curioso Di che parte c'è Oh Ma è molto avanti Aspetta Ah eccola qua Scusate Non la vedevo Quindi è molto avanti Quindi penso che il disastro L'hai risolto E in più C'hai meno 25% Quindi diciamo che È fatto apposta Per riprendersi Diciamo dal disastro Che c'è stato La missione Anglic Tenant Rule Ti dà la riforma Di governo C'è a cravarti Stessa di Machapajita Che bonus Che bonus Quindi solo quello Non vogliono fare Qualcosa di nuovo Effettivamente Non parleranno Nel dev di Ah direttamente Nel dev di Aiutai Ma non me lo ricordo Penso passate Tante settimane Ma devo fare ogni tanto Un ripasso di quello che dico Per questo sono utili video Quasi quando avrò anche io i video Me li riguardo Prima di dire stronzate Allora Metà del labbro è Focussato Sulle expande Si tratteranno Quasi solo Vabbè Sottomessi Casus Belli Per farelo Come Aiutai Che è interessante Effettivamente Avere sotto più Aiutai Con Khmer Non è male Visto che Aiutai Abbastanza Forte Bustata Anche se le idee Fanno schifo Però l'ho vista Che è molto messa Meglio per di prima La missione Restore Da Empire Ti fa diventare Impero Senza avere Effettivamente Un K di Deb Questa è una cosa Utile ragazzi Perché comunque Per diventare Un Impero Con altre nazioni Devi ottenere 1000 di Deb Devi avere Prestigio 75 Almeno Mi pare Non è facile Effettivamente Poi c'ha La missione In Bad Burda Ti dà Più 0.50 armi Traditional Per tutto il game Questo è buonissimo Per tutto il game La tradizione Comunque come sapete È la possibilità Di ottenere Dei generali Che sono molto forti E focalizzati Diciamo Su Generali 2 stelle 3 stelle Questo è buono Secondo me Poi vabbè Overseas Adventure Scusate il mio inglese Occhio Ve lo dico Faccio schifo L'inglese Ti chiede di conquistare Il Borneo E ti dà Navi Tradition Hanno per tutto il game Anche questo Non è male Adesso in più Una Navi Tradition Puoi ottenere Dei generali Abbastanza OP Allora Andiamo a vedere Il resto ragazzi Andiamo a vedere Andiamo a vedere Nuovi Privilegi Dei Estates In questo caso Questi privilegi Sono disponibili Solo ad alcune nazioni In cui Kmer In questo caso Tropical City Plating È per i tech Gruppi indiani E cinesi Ti fa di meno Il malus Per le province tropicali Quindi andiamo a vedere Come si chiama Tropical City Ok Questo qua Che ti dà I malus Sono No è abbastanza decente Queste cose Non ti dà Non perdi terre Local development Meno 5% Local set L'incresso Più 10% Non è malissimo Effettivamente Questi qua possono anche Colonizzare Mi ricordo Mi ricordo che aveva Più 10 Nel DVD Aiutai Mi ricordo Che aveva Più 10 assolutismo Ah è vero Hai ragione Più 10 assolutismo Che non era male Poi ovviamente Ci sono gli altri Andiamo a vedere Come monastic Templates Che ti fa controllare Il karma Che avevano annunciato In precedenza Solo buddhisti Ovvero Quando costruisci un tempio Fai più 3 karma E quando lo distruggi Perdi 3 karma Ah ok Questa è una cosa Abbastanza strana E carina Perché effettivamente Ci sono pochi metodi Per buttare giù O portare su il karma Effettivamente Solo con gli eventi Sto giocando aiutai Nell'aggiornamento Attuale Non è proprio Il massimo Gestire Diciamo Il karma Poi vabbè C'è Advanced Irrigation Techniques Che è uno dei privilegi Specifici di alcune nazioni Tra cui i kmer Che questo sarebbe Penso che si trovi A destra Parleremo Di questo Che da local development Meno 5% Questo vale Nelle province Che producono grano Che non è malissimo Non è buono Quanto tropical city Secondo me Questo è veramente buono Poi c'è Abrahamic Invece funziona Come per gli indiani Non converti più Provincia del gruppo Darmic Quindi Hindu E Sikh Però il non convertire Non dà malus Della religione unita Questo è veramente Buono Perché effettivamente In India Non c'hai proprio Il karma Devi rilasciare Nazioni A far rilasciare Per alzarlo Sì lo so Andy Il problema è che Se voglio Conquistare la manetta È un dito in culo È vero che comunque Anche se ce l'hai Troppo Fai troppe guerre C'è almeno 100% 2.5 disciplina Te lo dà comunque Però 5 disciplina Non dispiace a nessuno Vabbè Comunque Interessanti Questi nuovi Privilegi Status Veramente Ottimi Secondo me Il migliore È Tropical City Planning Buono È anche Monastic Template È quello Di Bramis Che ti dà Appunto Non puoi convertire Le altre province Però ti dà Comunque Religione unita A un buon livello Per quanto riguarda Extra info Ciampa avrà un albero Missioni Questa è un info In più Anche Ciampa Avrà un albero Di missioni Probabilmente Forse sarà Simile a Kmer Se non hanno detto nulla Azzolemani Dimmi se sbaglio Jumper Ma penso che siano comunque Similari Oppure sono quelle ridotte Come ce l'hanno alcune Nazioni in Germania Che hanno le missioni ridotte Ma comunque ce l'hanno Una decina Andiamo a vedere il numero Di missioni in questo caso Che sono 5, 10 13 17 19 Missioni Non sono pochissime Nemmeno così tante Perché ci sono nazioni Che veramente ne hanno tantissime Però Veramente interessante Ragazzi Per quanto riguarda Kmer Secondo me è un pick Single player Allora parliamo di single player Secondo me Come single player Sarà divertente giocarlo Perché comunque ti trovi Con un nuovo Gameplay infatti Ti arriva subito Questo disastro Inizi col disastro Che è veramente carino Machia Palette Secondo me sarà Molto più dura A risolvere questa cosa E in più C'è da dire un'altra cosa Multiplayer Secondo me Kmer Più o meno Potrebbe essere giocabile Più o meno Secondo me Kmer Per quanto riguarda Machia Palette Secondo me è troppo nerfato Per il multiplayer Quindi Vi assicuro che Machia Palette Non lo troveremo In questo torneo Per il prossimo torneo La stagione 3 Per chi si è iscritto Non lo troverete ragazzi Perché C'è la mappa Ancora non l'abbiamo finita Perché Mancano alcune nazioni Da completare Ho già fatto qualcosa Poi vi farò controllare A jumper Gli manderò il file E lui fa gli ultimi controlli Quando finiremo La scelta delle nazioni Perché comunque Ci vuole molto tempo Per il prossimo torneo A parte comunque Già ho aperto le iscrizioni Ma le nazioni Ne abbiamo messe Quelle sicure Sono europee Tutte Quelle là In Asia Fammi vedere Asia Che sono quelle Non si sa se ci saranno Sono Kmer Machia Palette È stata eliminata Quindi togliamo Machia Palette Qua scusatemi Devo scrivere qua Da scegliere Perché saranno In Asia Nella zona Indo-Asiatica Quindi Indo-Est India Praticamente Saranno Kmer No Scusatemi Dai Viet Brunei Sicuri da giocare E forse ci sarà Una nazione vicino a Machia Palette Che ha una cosa particolare Sui pirati Che è veramente interessante È una quarta nazione Vedremo ragazzi Ancora da vedere Però ci saranno Quattro nazioni In quella zona Forse potrebbe esserci Il rischio Che potremmo trovare Kmer in game Vedremo Grazie